Il nostro programma si propone di mostrare il vero cristianesimo, vero non perché lo diciamo noi, ma perché prendiamo questi insegnamenti dalla Sacra Bibbia, dalla parola di Dio, dal Vangelo. Da quel momento in poi il Signore mi aveva messo la gioia della salvezza, quindi la gioia di essere perdonato. E' importante che noi comprendiamo che il perdono di Dio genera la pace, che il perdono di Dio porta pace al cuore e per poter realizzare la pace bisogna accettare e realizzare il perdono del Signore. Grazie 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 Grazie